È stata fumata nera quindi il contratto di Dybala non verrà rinnovato, quindi Dybala lascerà la Juventus alla fine di questa stagione. Parte di questi cambiamenti riguardano il contratto di Dybala che oggi non è stato rinnovato. Paulo è un giocatore che ha passato sette anni della sua carriera con noi, un'offerta di quel tipo lì, non avrebbe dimostrato il rispetto nei suoi confronti e sicuramente non avrebbe aiutato per quelli che saranno i passi futuri della sua carriera. La sensazione è bellissima. Con questa maglia, con questi colori che tanto ho sognato di avere, penso che è un'emozione molto forte. E taglia nella maniera migliore il suo obiettivo di Dybala. Oh, 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 oh These days, these days Oh, 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 oh Oh, oh, oh And I know it ain't pretty when the fire burns out Calling me when I'm drunk Remind me of what I've done And I know it ain't pretty when you're trying to move on Oh, 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 oh Oh, oh, oh Respiro, in colpo del 10, la Juve avanti all'Olimpico! Di bala! Paulino, di bala! Ha segnato la Juve intrusa! E' un nuovo nuovo per Di Bala! Di Bala è tipica! Di Bala è uno! Il raccoglio di Juventus! Paolo Di Bala, un fronte al scientifico! Sensazionale! Di Bala Di Bala! Di Bala mi importa! Di Bala mi importa! Il primo che è meraviglioso! Juventus è in vantaggio! E' incredibile! E' un momento che gli riesce a tutti! Di Bala! Di Bala! We wish we could go back to these days